Dodici. L'udienza cominciò con quasi un'ora di ritardo, per ragioni sconosciute. Ebbi il sospetto che prima dell'ingresso in aula ci fosse stata qualche discussione animata in Camera di Consiglio, perché i giudici, sia i togati sia i popolari, entrarono e si disposero ai loro posti con facce tese. Faceva eccezione solo la signora Belloccia alla sinistra del Presidente. Lei aveva sempre la stessa aria di sussiego e di finta concentrazione, quella che con ammirevole fissità aveva mantenuto per tutte le udienze, l'atteggiamento che evidentemente considerava come il fo per un giudice popolare in corte d'assise. Pensai che se non mi sbagliavo, e c'era stata discussione, questa aveva avuto per protagonisti soprattutto il Presidente e il c'è all'atere. Lo pensai guardando il modo in cui si erano seduti. Il Presidente era ostentatamente girato, addirittura con sedia spostata, dalla parte opposta al suo giudice. Quest'ultimo guardava fisso in avanti e puliva gli occhiali in modo nervoso e quasi ossessivo. Non avrebbero scambiato una sola parola per tutta l'udienza. Pensai che non erano le condizioni ideali per un'udienza così importante. Pensai anche, in modo del tutto irrazionale, che il Presidente aveva già deciso di condannare Abdou. Questa sensazione mi accompagnò in modo opprimente per tutta la mattina. Margherita non era venuta, ma nemmeno mi ero aspettato che lo facesse. Non so dire in base a che ragionamento ero convinto che non l'avrei vista quella mattina. In realtà non so nemmeno se ci fu un ragionamento. Certo è che non mi aspettavo di vederla qualche ora dopo quel messaggio. Abdou venne fatto uscire dalla gabbia, senza manette, e gli fu fatto prendere posto nella sedia destinata ai testimoni. Alle sue spalle, a mezzo metro di distanza, due agenti di custodia. Il Presidente gli chiese innanzitutto se confermava di non avere bisogno di un interprete. Abdou fece di sì col capo. E Zavojani disse che non poteva limitarsi a fare cenni e doveva dire sì o no, parlando vicino al microfono. Abdou disse che andava bene e che no, non aveva bisogno di nessun interprete. Capiva. Subito dopo il Presidente gli chiese se intendeva sottoporsi all'esame e Abdou rispose di sì, parlando vicino al microfono, con voce ferma. A quel punto ebbe la parola il pubblico ministero. Allora Tiam, per prima cosa, lei conosceva il piccolo Rubino Francesco? Sì. Ma quando lei è stato interrogato ha detto di non conoscerlo, ricorda? Si cominciava subito, scattai in piedi per la prima opposizione. Opposizione, Presidente, questa domanda è inammissibile. Se il pubblico ministero intende contestare all'imputato il contenuto di sue precedenti dichiarazioni, lo faccia dicendo a quale verbale fa riferimento e dando lettura testuale delle dichiarazioni che intende contestare. Il Presidente stava per dire qualcosa, ma cervellati lo precedette. Faccio riferimento al verbale di interrogatorio dinanzi al pubblico ministero in data 11 agosto 1999. Faccio la lettura ai fini della contestazione, così la difesa non avrà di che lamentarsi. Dunque, lei ha detto testualmente in questo interrogatorio che opposizione, Presidente. L'accusa non può affermare che il mio cliente ha riferito testualmente quando procede a una contestazione da un verbale in forma riassuntiva, come è quello in questione. Nell'interrogatorio che il pubblico ministero ha citato, che è il primo e l'unico a cui il signor Tiam è stato sottoposto, non fu utilizzata stenotipia e non fu utilizzata alcuna forma di registrazione. Non era una vera opposizione, ma mi serviva a comunicare subito ai giudici una informazione importante. La prima volta, e di fatto l'unica, che Abdu era stato interrogato, non c'erano registratori, non c'erano videoregistratori, non c'erano stenotipisti. Il Presidente rigettò l'opposizione e mi disse che non gli piaceva il modo in cui avevamo cominciato. Mi sarebbe piaciuto replicare a tono, ma non lo feci. Dissi solo grazie, Presidente. E cervellati riprese. Allora leggo la dichiarazione. Non conosco nessun rubino Francesco. Questo nome non mi dice niente. Posso spiegare? Io conoscevo il bambino con il nome Ciccio. Lo chiamavo così. In spiaggia tutti lo chiamavano così. Quando ho sentito rubino Francesco non ho capito che era Ciccio. Il piccolo per me era Ciccio. Nel corso di quell'interrogatorio, però, a un certo punto, ha ammesso di conoscere il bambino. È vero? Sì. Quando ho visto la fotografia? Intende dire quando le è stato contestato il ritrovamento a casa sua di una foto del bambino? Quando mi avete fatto vedere la foto? Sì. Quella che avevo a casa. Quindi è esatto dire che lei ha ammesso di conoscere il bambino solo quando si è reso conto che avevamo trovato quella fotografia? Stava esagerando. Opposizione. Questa non è una domanda. Il pubblico ministero cerca di trarre conclusioni e non lo può fare in questa sede. A malincuore il Presidente dovette darmi ragione. Pubblico ministero si limiti alle domande, le conclusioni nella requisitoria. Cervellati riprese il suo esame, ma si stava evidentemente innervosendo. E non solo con me. Allora, Tiam, lei è in grado di riferire dove era il pomeriggio del 5 agosto 1999? Sì. Dica. Tornavo da Napoli in macchina. Cos'era andato a fare a Napoli? A comprare merce da vendere sulle spiagge. Ho una contestazione, dallo stesso verbale che ho indicato prima. Leggo testualmente. Il pomeriggio del 5 agosto credo di essere andato a Napoli. Sono andato a trovare dei connazionali dei quali però non so indicare i nomi. Ci siamo visti, come altre volte, nei paraggi della stazione centrale. Non so fornire utili indicazioni per individuare questi miei connazionali e non so indicare qualcuno che potrebbe confermare che quel giorno sono stato a Napoli. Ha capito, Tiam? Quando lei fu interrogato nell'agosto dell'anno scorso, disse di essere stato a Napoli, ma non parlò di acquisti di merce eccetera. Disse solo che era andato a trovare dei suoi connazionali, dei quali peraltro non sapeva indicare le generalità. Cosa può dire sul punto? Sono andato a comprare la merce e sono andato a comprare anche Ashish. Non ho detto queste cose perché non volevo mettere in mezzo quelli che mi avevano venduto la merce e l'Ashish. E non volevo mettere in mezzo il mio amico che teneva a casa sua la mia merce e l'Ashish. Chi è questo suo amico? Non voglio dirlo. Va bene, questo servirà a valutare l'attendibilità della sua storia. Cosa doveva farne dell'Ashish? Lo compravamo in gruppo con altri amici africani per fumarlo insieme. Che quantitativo di Ashish aveva acquistato lei? Mezzo chilo. E lei pensa che crediamo a questa storia? Che crediamo al fatto che per non far risultare una detenzione di Ashish e merce con marchi contraffatti lei non si è difeso da un'accusa di omicidio? Non so se credete a questa storia. Io però quando sono stato interrogato ero molto confuso. Non capivo bene cosa stava succedendo e non mi sentivo di tirare in mezzo persone che non centravano. Non sapevo cosa fare. Se avevo avuto un avvocato forse potevo... Durante l'interrogatorio lei aveva un avvocato? Cervellati alzò la voce. Stava davvero perdendo la calma. Non era necessario il mio intervento. Avevo un avvocato d'ufficio. Non ho parlato con lui prima dell'interrogatorio e poi non l'ho visto più. Se mi chiedete com'è fatto non sono capace di dirlo. Va bene, disse Cervellati cercando di dominarsi e rivolgendosi alla corte. Io non devo discutere con l'imputato. Sentati Anne, lei dice di essere andato a Napoli quel giorno. Ci descriva dettagliatamente come si è svolta la sua giornata. Quel giorno che sono andato a Napoli? Sì. Sono partito la mattina presto verso le sei. Sono arrivato a Napoli verso le nove. Sono andato in un magazzino dalle parti del carcere, appoggio reale, dove prendo la merce e ho caricato la macchina. Poi sono andato veramente vicino alla stazione, dove c'erano miei amici che avevano il fumo, l'hashish, e l'ho comprato. Avevo i soldi che avevamo raccolto a Bari. Che bisogno aveva di andarlo a comprare a Napoli, l'hashish? A Bari non se ne trova? A Bari si trova? Ma si trova soprattutto l'erba, la marijuana, che viene dall'Albania. Però io dovevo andare a Napoli per la merce. A Napoli ci stanno questi amici che hanno la roba molto buona e che mi fanno un prezzo buono. Quanto la pagano loro? Che prezzo le fanno questi suoi amici spacciatori? Mezzo chilo, un milione. E poi lei la spacciava a Bari. No, io non spacciavo. Compravamo in società e poi dividevamo per fumarla noi. A che ora è rientrato da Napoli? Pomeriggio. Non so l'ora precisa. Quando ho scaricato dal mio amico c'era ancora sole. Naturalmente, lei lo ha già detto, non vuole dirci il nome di questo amico. Non posso. C'è qualcuno che può confermare questa storia che ci ha raccontato oggi qui? Un testimone? Sì, un testimone. No, non posso chiamare nessuno. Poi io sono in carcere da quasi un anno. Non so nemmeno se le persone di Napoli o anche il mio amico di Bari sono ancora in Italia. Va bene, quindi dobbiamo stare solo alla sua parola. Comunque lei può escludere di essere andato a Monopoli, a Capitolo, quel pomeriggio. No. Non può escluderlo? Non sono andato. Quando ho finito di scaricare, sono rimasto a Bari. Era tardi e non trovavo più nessuno sulle spiagge. Lei dice di non essere andato a Monopoli quel pomeriggio. È in grado di spiegare allora per quale motivo il signor Renna, il proprietario del bar Maracaibo, dichiari di averla vista passare davanti al suo bar proprio quel pomeriggio attorno alle 18? Lei ritiene che il signor Renna non abbia detto la verità? Le risulta che Renna abbia qualche motivo di ostilità nei suoi confronti? Non so. Io credo che lui si sbaglia. Forse fa confusione del giorno. Forse ha visto uno che mi somiglia. Non so. Io non sono andato a Capitolo quel giorno. Non mi ha detto se ritiene che Renna abbia motivi di ostilità nei suoi confronti. Non capisco. Cosa vuol dire ostilità? Secondo lei Renna la accusa falsamente perché vuol farle del male? Ce l'ha con lei? Stavo per fare opposizione, ma Abdù rispose prima. E rispose bene. Io non ho detto così. Non ho detto che mi accusa falsamente. Io so che si sbaglia, ma questa è una cosa diversa. Accusare falsamente è quando uno sa che sta dicendo una cosa che non è vera. Lui dice una cosa che non è vera, ma penso che lui crede che è vera. Lei nei giorni successivi al 5 agosto ha portato a lavare la sua macchina? Sì, dopo il viaggio a Napoli. Ho portato a lavare la macchina in quei giorni. Perché? Perché era sporca. Mi parve di cogliere un accenno di sorriso sulle labbra di alcuni dei giudici. Rimasero sicuramente seri il presidente, il giudice all'atere, la signora Belloccia che sembrava imbalsamata e l'anziano con l'aria di ufficiale in pensione. Io rimasi molto serio. Anche Cervellati, che proseguì il suo esame per alcuni minuti ancora, chiedendo ad Abdou della fotografia con il bambino e di poche altre cose. Una parte civile fece qualche domanda per mostrare di esserci e poi il presidente mi disse che potevo procedere. Signor Thiam, può dirci che lavoro faceva in Senegal? Sono un maestro di scuola elementare. Quante lingue parla? Parlo i Wolof, la mia lingua, italiano, francese e inglese. Perché è venuto nel nostro paese? Perché nel mio paese non riuscivo a vedere il futuro. Lei è un clandestino? No. Ho il permesso di soggiorno e anche la licenza per venditore ambulante. Però vendevo anche cose false. Questa era la cosa illegale che facevo. Da quanto tempo conosceva il piccolo Francesco, ciccio? L'ho conosciuto l'estate scorsa. No, voglio dire l'estate prima, nel 98. Perché aveva quella foto del bambino? Me la regalò lui. Io e il bambino eravamo amici. Spesso parlavamo. Quando le è stata regalata? L'estate scorsa, a luglio. Il bambino disse che se partivo per tornare in Africa, potevo portarmi quella foto per ricordo. Io gli dissi che non dovevo tornare in Africa, ma lui me la diede lo stesso. Quando è stata fatta la foto? Il giorno stesso che me l'ha data, c'era il nonno del bambino che aveva una macchina Polaroid e faceva le fotografie. Il bambino ne ha presa una e me l'ha data. Adesso vorrei passare ad altro. Io vedo che lei parla molto bene l'italiano. Vorrei chiederle una cosa allora. Può dirci cosa significa la frase «rinuncio espressamente a ogni termine a difesa»? Non so cosa significa questa frase. È strano, signor Thiam. È una frase che lei sembra aver pronunciato nel suo interrogatorio davanti al pubblico ministero. Vuole leggere? Mi avvicinai ad Abdou mostrandogli la mia copia del verbale. Mi aspettavo che il pubblico ministero obiettasse qualcosa, ma rimase al suo posto, senza dire niente. Abdou guardò il verbale, come gli avevo detto di fare il venerdì scorso in carcere. Poi scosse la testa. Non lo so cosa significa. Mi scusi, signor Thiam, lei non ha detto che rinunciava ai termini per la comparizione per l'interrogatorio? Non lo so cosa sono questi termini. Va bene, forse non se lo ricorda, perché lei questo verbale lo ha firmato. Dovevo fermarmi a quel punto. Il messaggio, mi pareva, era arrivato dove doveva arrivare. Il verbale dell'interrogatorio di Abdou era stato redatto con una certa disinvoltura e adesso anche la corte lo sapeva. Potevo cambiare argomento e passare al punto decisivo. Lei ha detto che il 5 agosto è andato a Napoli e che non ci sono testimoni che possano confermare questa circostanza. È esatto? Sì. Lei ha un telefono cellulare? Ce l'avevo. Quando mi hanno arrestato mi hanno fatto il sequestro anche di quello. Certo, risulta dal verbale che è nel fascicolo. Quando lei andò a Napoli aveva questo cellulare con sé? Sì. Ricorda se quel giorno ha fatto o ricevuto delle telefonate? Credo di sì, non mi ricordo con precisione, ma credo di sì. Può dirci qual era il numero di questo telefono cellulare? Sì. Il numero era 0339 71 34 964. Ho finito, presidente. Grazie. Il pubblico ministero non aveva ulteriori domande e chiese l'acquisizione del verbale utilizzato per le contestazioni. Io non feci obiezioni. Il presidente disse che dopo una pausa di mezz'ora avremmo dovuto formulare le eventuali richieste di prova integrativa. La corte avrebbe deciso se accoglierle o meno e poi avremmo concordato il calendario successivo. Pensai che avevo serio bisogno di un caffè e di una sigaretta. 13. Al bar del tribunale c'erano dei tavolini in stile tavola calda anni 70. Presi al banco il mio caffè e andai a sedermi a uno di quei tavolini, da solo e con l'intenzione di passare mezz'ora senza pensare a niente e senza parlare con nessuno. Accesi la sigaretta e rimasi a guardare la gente che entrava e usciva dal bar. Tranquillo. Ero lì quando arrivò una signora abbronzata, elegante, con gioielli e l'aria di chi passa molto del suo tempo fra palestre e saloni di bellezza. Si stava dirigendo verso il banco quando mi vide e si fermò. Guardava nella mia direzione con un principio di sorriso sulle labbra e con l'aria di chi si aspetta qualche segno di risposta. Mi guardai a destra e a sinistra per verificare che si stesse rivolgendo proprio a me. Dietro non potevo perché ero a ridosso del muro. Comunque ai tavolini c'ero solo io e quindi stava guardando proprio me. Visto il mio comportamento si avvicinò di più. La sua espressione adesso era leggermente cambiata. Immagino pensasse che o ero fortemente mio o fortemente rincoglionito. Non mi riconosci? Disse finalmente. Allungai leggermente il collo verso di lei e un sorriso stolido mi si disegnava sulla faccia mentre cercavo qualcosa da dire. Poi la riconobbi. Quindici anni prima o forse di più. Mi ero appena laureato. Non riuscivo a ricordare cosa faceva all'epoca ma certo era molto diversa. Forse si stava laureando in medicina o forse la confondevo con qualcun'altra. Eravamo usciti insieme per due mesi o poco meno. Era più grande di me, forse di cinque anni. Allora adesso doveva avere più o meno 44 anni. Come si chiamava? Non mi ricordavo come si chiamava. Magda! Sono Magda! Che fai? Non mi riconosci? Magda! Eravamo usciti per due mesi quindici anni fa. E che facevamo? Di cosa parlavamo? Magda! Scusami! Non metto gli occhiali per vanità e faccio queste figure. Sono un po' mio. Per come stai? Sto bene. E tu? Seguì una conversazione assurda. Non mi ricordavo quasi niente di lei e così fui cauto per evitare altre figuracce. Mi disse che era in tribunale per lavoro. Da come lo disse sembrava scontato che io sapessi qual era il suo lavoro. Io invece non ne avevo la minima idea e mentre continuava a parlare di separazioni, di vita da single, di vacanze, di come dovessimo per forza vederci una sera con una serie di persone i cui nomi non mi dicevano niente, mi sentivo trascinato in un vortice surreale. Mi sentii meglio solo quando ci salutammo, abbracciandoci e baciandoci. Ciao Magda! Quando ci incontreremo di nuovo troverò il coraggio di chiederti di cosa abbiamo parlato quasi ogni sera per due mesi, quindici anni fa. Il presidente chiese al pubblico ministero e all'avvocato della parte civile se avessero da fare richieste di prove integrative. Tutti e due risposero di no. Allora si rivolse a me e mi fece la stessa domanda. Mi alzai e prima di parlare aggiustai la toga che come al solito mi scivolava sulle spalle. Sì presidente, abbiamo delle richieste ai sensi dell'articolo 507 del codice diritto. La corte ha sentito poco fa l'interrogatorio dell'imputato. Questi ha riferito di essere intestatario di un'utenza telefonica cellulare. La circostanza peraltro emergeva già dagli atti in vostro possesso perché nel fascicolo del dibattimento è inserito, fra gli altri, il verbale di sequestro del telefono cellulare in questione e della relativa scheda. Quell'appunto cui si riferisce il numero 0339 7134964 di pertinenza dell'imputato. L'imputato ha riferito di avere portato con sé, in quel viaggio a Napoli, il suddetto telefono cellulare e probabilmente di avere fatto e ricevuto telefonate in quell'occasione. Voi sapete certo meglio di me che l'utilizzazione di un telefono cellulare lascia una traccia che è conservata su un supporto magnetico dal gestore, in questo caso la telecom. È possibile acquisire tabulati da cui risultano i numeri in entrate e in uscita, l'orario, la durata delle telefonate e soprattutto la zona in cui l'utilizzatore del telefono si trovava al momento della chiamata. Tanto premesso, credo di non dover spiegare ulteriormente la rilevanza che può avere l'acquisizione presso la Telecom Italia dei tabulati relativi all'utenza cellulare 0339 7134964 per il giorno 5 agosto 1999. È vero che non abbiamo nessun testimone che possa confermare l'alibi dell'imputato. Le risultanze dei tabulati però possono essere ben più che una testimonianza d'alibi. La localizzazione del telefono collegata in termini di certezza a un orario preciso può fornire un elemento risolutivo al processo. In conclusione dunque vi chiedo a norma dell'articolo 507 del codice di procedura penale di emettere un decreto di acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico dell'utenza cellulare 0339 71 34964 per il giorno 5 agosto 1999. Credo di non dover aggiungere altro. Grazie. Il presidente mi guardò ancora per qualche secondo dopo che ebbe finito di parlare. Poi stava per voltarsi verso il giudice all'atere quando dovette ricordarsi che avevano litigato un paio d'ore prima. Almeno io ero convinto che per qualche motivo avessero litigato. Certo è che Zavojani si stava girando verso il giudice e si fermò a metà. In modo così brusco che dovette darsi un contegno appoggiando la testa su una mano con aria pensosa. Si era mosso come il personaggio di una farsa e rimase per qualche secondo innaturalmente immobile. Poi si rivolse al pubblico ministero. Ci sono osservazioni su questa richiesta della difesa pubblico ministero? Presidente io ho molti dubbi non dico sulla assoluta necessità ma anche solo sulla rilevanza della prova richiesta dalla difesa. I dubbi possono essere riassunti in poche parole. Chi ci dice che il 5 agosto 99 il telefono cellulare era nella disponibilità del Tiam? Il telefono è stato trovato nella sua disponibilità al momento della perquisizione, è vero, ma questo significa poco. La perquisizione di qualche giorno dopo e noi sappiamo che in certi ambienti, per esempio quello degli spacciatori al quale l'imputato ci ha appena detto di essere vicino, se non addirittura interno, di elusanza dello scambio degli apparecchi cellulari, come delle armi e quant'altro. In mancanza di prova sulla disponibilità del telefono da parte del Tiam alla data del sequestro del bambino, la prova richiesta è priva di rilievo. Devo poi aggiungere una considerazione di natura più strettamente processuale. L'articolo 507 consente l'assunzione di nuovi mezzi di prova solo laddove la loro necessità sia emersa nel corso del dibattimento. In questo caso la prova ben poteva essere richiesta nella fase introduttiva, ma la difesa non l'ha fatto, per negligenza o per altre ragioni che non conosciamo. In ogni caso la richiesta è tardiva e anche sotto questo profilo deve essere rispinta. «La parte civile ha osservazioni?» disse ancora il Presidente. «Ci riportiamo le considerazioni già svolte dal Pubblico Ministero». «Presidente», disse io, «mi consente una brevissima replica alle osservazioni del Pubblico Ministero?» «Come lei sa bene, avvocato, non sono ammesse repliche in questa fase. Presidente, avvocato, non una parola di più. Glielo ripeto, non una parola di più». Così dicendo si alzò per andare in Camera di Consiglio. Ad uno ad uno si alzarono i giudici popolari per seguirlo. Il giudice all'atere rimase seduto. Ebbi l'impressione che serrasse le labbra per un attimo, poi si alzò anche lui e si diresse, per ultimo, in Camera di Consiglio. Aspettammo a lungo. Di solito decisioni come quella, su richieste di prove integrative, vengono prese direttamente in udienza o dopo una Camera di Consiglio di qualche minuto. Quel giorno invece no. Passavano le ore senza che succedesse niente. Scambiavo chiacchiere con il cancelliere che mi diceva di non capire il perché di quel ritardo. Rispondevo che anch'io non riuscivo a capire, ma non era vero. Stavano così a lungo in Camera di Consiglio perché, di fatto, la corte si era spaccata fra quelli che avevano già deciso di condannare Abdù e quelli che volevano capire meglio. Se vincevano i primi e se la mia richiesta di acquisire quei tabulati veniva respinta, potevo tranquillamente risparmiarmi la fatica di discutere la causa. Abdù era già spacciato. Eravamo ancora in gioco solo se vincevano gli altri. Dalla gabbia Abdù mi chiese cosa stesse succedendo e io gli mentii, dicendo che quell'attesa era del tutto normale. Mi venne di chiamare Margherita, ma non lo feci. Senza una ragione che fossi in grado di identificare, mi venne in mente un proverbio turco, antico, che diceva più o meno così. Prima di amare, impara a camminare sulla neve senza lasciare impronte. Perché mi veniva in mente quel proverbio? Mi sentivo solo e, cazzo, mi stava venendo da piangere. Dopo mesi, proprio in quel momento, in quel posto. No, per piacere, no. Andai verso l'uscita dell'aula per evitare di dare spettacolo, just in case, e per accendere un'altra sigaretta. L'avevo già messa fra le labbra quando i miei pensieri furono lacerati dal suono providenziale della campanella. Tornai al mio posto, misi la toga e mi accorsi di avere ancora la sigaretta appesa a un angolo della bocca, quando i giudici erano già rientrati. Si erano seduti e il presidente cominciava a leggere l'ordinanza. Abbassai lo sguardo sul mio banco e so chiusi gli occhi, sfocando le carte che avevo davanti. Ascoltai. La Corte d'Assise di Bari, pronunciandosi sulla richiesta di assunzione di nuovi mezzi di prova formulata dalla difesa dell'imputato Tiamo Abdu, osserva quanto segue. La difesa dell'imputato richiede, a norma dell'articolo 507 del codice di procedura penale, l'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico dell'udienza cellulare 0339 71 34 964, per il giorno 5 agosto 99, sul duplice presupposto che la necessità di tale acquisizione sia emersa nel corso dell'istruttore dibattimentale, in particolare nel corso dell'esame dell'imputato, e che comunque la detta acquisizione sia assolutamente necessaria al fine di accertare la verità. Il pubblico ministero si oppone, sostenendo la non rilevanza, o comunque la non assoluta necessità, è la tardività della richiesta. Effettivamente, come ha osservato il pubblico ministero, la richiesta poteva bene essere avanzata in sede di esposizione introduttiva, perché gli elementi per formularla erano già in quella fase nella disponibilità della difesa. La richiesta è dunque da considerare tecnicamente tardiva. Il presidente fece una pausa, o così mi parve. Io rimasi con gli occhi socchiusi e lo sguardo abbassato. Qualche secondo dopo mi sarei accorto che avevo trattenuto il respiro. Sotto altro profilo però, però, avevano accolto. Sotto altro profilo però occorre rilevare, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che il giudice di merito è tenuto a non trascurare che il fine primario del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità. In tale prospettiva non sono accettabili metodologie o scelte processuali che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico, necessario per conseguire una giusta decisione. Tanto premesso occorre evidenziare che la prova richiesta è da intendersi come potenzialmente decisiva. Dall'acquisizione dei tabulati potrebbe infatti emergere una vera e propria prova d'alibi, laddove risultasse una localizzazione dell'imputato incompatibile con l'ipotesi della sua responsabilità per i fatti oggetto di imputazione. Per questi motivi la Corte d'Assise di Bari ordina l'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico dell'utenza 0339 71 34 964 per il giorno 5 agosto 1999 dalle ore 6 alle ore 24. Dispone altresì l'audizione del responsabile della sede Telecom di Bari o di altro dipendente della medesima società espressamente delegato per illustrare in udienza il preciso significato dei tabulati. Delega la sezione di polizia giudiziaria in sede assegnando il termine di giorni 5 per l'esecuzione. Rinvia per l'assunzione della prova e per la discussione all'udienza del 3 luglio. L'udienza è tolta. Riaprì gli occhi e sollevai lo sguardo quando la Corte era già uscita dall'aula. Mancava una settimana alla fine, in un modo o nell'altro. 14. In quella settimana ci furono giorni stranamente normali. Lavorai normalmente, feci le mie normali udienze, ricevetti clienti, incassai qualche parcella, il che non era male, e tutto il resto. Non mi occupai del processo di abdu. Dovevo aspettare l'arrivo dei tabulati perché dal risultato di quell'accertamento dipendeva l'impostazione che avrei dato alla mia arringa. Fino a quel momento era inutile che riguardassi carte o cominciassi a preparare la discussione. Giovedì pomeriggio Margherita mi chiamò sul cellulare. Dopo il messaggio di domenica sera non c'eravamo sentiti. Non l'avevo chiamata né avevo provato a citofonarle. Non so perché. Qualcosa mi aveva trattenuto. Avevo voglia di uscire a bere qualcosa dopo cena? Sì, ne avevo voglia. Le citofonavo, bussavo a casa sua. Ah, usciva prima e potevamo vederci direttamente da qualche parte sul tardi. Andava bene per me su via Venezia davanti al fortino verso le dieci e mezza? Andava bene. A dopo allora. Aveva un tono di voce un po' strano e mi diede un leggero senso di inquietudine. Il pomeriggio passò lentamente da quel momento. diventai distratto e guardai spesso l'orologio. Me ne andai dallo studio verso le otto, a casa feci una doccia, mi cambiai e uscii molto prima dell'appuntamento. Feci passare il tempo a fatica e verso le dieci mi avviai dalle parti del fortino. Camminavo in salita lungo via Venezia fra la gente. Era piena come sempre a quell'ora d'estate. Soprattutto gruppi di ragazzi. Mandavano un odore misto di deodorante, di latte solare e di gomma da masticare alla clorofilla. Qualche famiglia della città vecchia, qualche cinquantenne abbronzato con ragazza ventenne in una nuvola di profumo. Miei coetanei pochissimi. Chissà perché mi chiesi tanto per macinare un pensiero. Arrivai al fortino con almeno dieci minuti d'anticipo, ma mi sentivo meglio perché il tempo era passato. Appoggiato di spalle sul muro, accesi una sigaretta e mi guardai attorno, in attesa. Arrivò attorno alle undici meno venti. Scusami, è stata una giornata pesante, in una settimana pesante. Ne fermiamoci alla settimana. Che è successo? Camminiamo, vuoi? Ci dirigemmo verso nord, sempre su via Venezia. Man mano che ci allontanavamo dalla zona del fortino, la gente si diradava. gruppi più piccoli, coppie, qualche camminatore solitario, qualche poliziotto in divisa, a sorvegliare. Camminammo senza parlare, fin quando arrivamo all'altezza della basilica di San Nicola. Un tipo con un cane corso ci passò vicino e il bestione si inchiodò per annusare le gambe di Margherita. Lei pure si fermò, allungò la mano e accarezzò il cane sulla testa. Il padrone era stupito che la belva si lasciasse toccare in quel modo, da un'estranea. Era la prima volta che succedeva, ci disse. La signora aveva un cane? No, non l'aveva. Lo aveva avuto, ma era morto tanti anni fa. Il cane e il padrone andarono via e noi ci sedemmo sul muretto che si affaccia sul lato destro di San Nicola. Come ti è andata in questi giorni? Il processo? Disse. Bene, spero. Lunedì prossimo potremmo concludere. E a te come va? Cauto. Lasciò passare qualche secondo e poi parlò come se non le avessi fatto nessuna domanda. Nei posti dove ti insegnano a smettere di bere, ti spiegano anche come resistere al rischio delle ricadute. Nel primo anno successivo al trattamento le ricadute sono tantissime e anche dopo è frequente ricascarci. Era una cosa che ci ripetevano in continuazione. Ci saranno dei momenti difficili, dicevano, in cui vi sentirete tristi, avrete una terribile nostalgia del passato o paure del futuro. In quei momenti avrete voglia di bere. Una voglia che vi sembrerà invincibile, che vi sommergerà come un'ondata. Invece non è invincibile. Sembra che lo sia perché siete più deboli in quel momento. Ma appunto è come un'onda. Un'onda in mare vi sommerge solo per qualche secondo, anche se quando siete sotto vi sembra un'eternità. Ne venite fuori facilmente se non vi lasciate prendere dal panico. Allora, dicevano, ricordatevi che basta restare calmi in quei momenti. Non lasciatevi prendere dal panico. Ricordatevi che in breve metterete la testa fuori dall'acqua, perché l'onda sarà passata. Quando siete colpiti dall'impulso irresistibile a bere, fate qualcosa per lasciare passare i secondi o i minuti che dura la crisi. Flessioni, due chilometri di corsa, mangiate un frutto, chiamate un amico. Qualsiasi cosa faccia passare il tempo senza pensare. Io stavo in silenzio e avevo paura di quello che avrei sentito dopo. A me è capitato diverse volte, come a tutti. L'aikido mi ha aiutato. Quando arrivava l'ondata, mettevo il kimono e ripetevo le tecniche, cercando di concentrarmi solo su quello che stavo facendo. Funzionava. Quando finivo l'allenamento, mi ero dimenticata della voglia di bere. Con il tempo questi momenti si sono fatti sempre più rari. Erano almeno due anni che non mi capitavano. Accesi la sigaretta che tenevo fra le dita da qualche minuto. Margherita continuò a parlare, senza cambiare tono, guardando in un posto indefinito davanti a lei. C'è una persona, da quasi tre anni. Non abita a Bari e forse è per questo che ha funzionato così a lungo. Ci vediamo nei fine settimana. O viene lui o lo raggiungo io. Lo scorso fine settimana è venuto lui. Gli avevo già parlato di te, così in modo normale, e sulle prime non aveva avuto problemi. O non me l'aveva detto. Si girò lentamente verso di me, mi prese la sigaretta e ne fumò una buona parte prima di restituirmela. Comunque non so come, il discorso è ritornato sabato scorso. Cioè più che di discorso si è trattato di una scenata di gelosia. Ora devi sapere che lui non è una persona gelosa. È esattamente l'opposto. Per cui sono rimasta allibita e ho reagito male. Molto male. Eravamo stati insieme, insomma avevamo fatto l'amore. Mi sentì trafiggere. Subito dopo nebbia fitta nel cervello per non so quanto tempo, fino a quando riuscì di nuovo a capire cosa stava dicendo. E poi gli ho detto che non mi sarei mai aspettata discorsi del genere da lui. Che era una delusione e così via. Lui mi ha risposto che ero un ipocrita. Dicendo che tu eri solo un amico, mentivo. Non a lui, a me stessa. E per questo ero veramente ipocrita. E che reagivo con quella violenza proprio perché sapevo che aveva ragione. La discussione è durata buona parte della notte. La mattina lui ha detto che andava via. Che dovevo chiarirmi le idee, cercando di essere onesta, con lui e con me stessa. Poi potevamo risentirci e riparlarne. Lui è andato via e io sono rimasta lì, seduta sul letto con il cervello pieno di frastuono, incapace di pensare. Le ore sono passate in modo allucinante e naturalmente mi è venuta voglia di bere. Una voglia pazzesca come non mi era mai venuta da quando ho smesso. Ho provato a mettere il chimono e ad allenarmi ma in realtà non ne avevo nessuna voglia. Avevo voglia di bere invece e di sentirmi bene, di fare sparire quel frastuono dal cervello, di fare sparire la responsabilità, il dovere, gli sforzi, tutto. Cazzo. Allora sono scesa, ho preso la macchina e sono andata a Poggio Franco. Sai che c'è quel bar grande sempre aperto, non mi ricordo mai come si chiama, dove hanno anche vini e liquori. Sapevo qual era il bar e fecisi con la testa. Avevo la bocca secca, la lingua attaccata al palato. Sono entrata e ho chiesto una bottiglia di Jim Beam, che era il mio preferito. A quel punto mi sentivo calma, mortalmente calma. Sono tornata a casa, ho preso un bicchiere grande e sono andata in terrazza. Mi sono seduta al tavolo, ho rotto il sigillo della bottiglia. Hai presente quel bello schiocco quando apri una bottiglia nuova e mi sono avversata tre dita di bourbon per cominciare. L'ho fatto lentamente, guardando il liquido che scendeva nel bicchiere, i riflessi, il colore. Poi ho avvicinato il bicchiere al naso e ho respirato a lungo. Sono rimasta molto tempo davanti a quel bicchiere, con i pensieri che giravano attorno a se stessi. Sei una cattiva ragazza, lo sei sempre stata. Non ci si può ribellare al proprio destino, è inutile. Diverse volte ho alzato il bicchiere per bere, l'ho guardato e poi l'ho poggiato di nuovo sul tavolo. Tanto ero sicura che avrei bevuto e allora potevo prendermela molto calma. È diventato buio ed ero sempre lì, con questo bicchiere di bourbon. Ho pensato che mi andava di riempirlo di più. L'ho poggiato sul tavolo, ho preso la bottiglia e ho versato, molto lentamente, ancora. Il bicchiere si è riempito fino alla metà, due terzi, fino all'orlo e io ho continuato a versare. Pianissimo il liquido ha cominciato a traboccare e io lo guardavo scendere sulle pareti esterne del bicchiere e poi spandersi sul tavolo e poi gocciolare per terra. Quando la bottiglia si è svuotata, ho poggiato sul tavolo. Ho preso il bicchiere con due dita e l'ho inclinato lentamente, senza sollevarlo. Così ha cominciato a suotarsi, anche questo molto lentamente. Man mano che si svuotava lo inclinavo di più. Alla fine l'ho rovesciato. Mi passai le mani sulla faccia, respirando finalmente. Mi accorsi anche del dolore alle mascelle. A quel punto mi sono alzata. Ho preso secchio e stracci e ho pulito tutto. Ho messo gli stracci e la bottiglia vuota in un sacchetto, sono scesa in strada e ho buttato tutto in un cassone della spazzatura. Avevo voglia di chiamarti, ma non mi sembrava una cosa giusta. Dovevo finire di sbrigarmela da sola, ho pensato. Allora almeno ti ho mandato quel messaggio. Smise di parlare così, quasi bruscamente. Rimanemmo a lungo in silenzio, seduti su quel muro. Io avevo domande che mi bruciavano. Riguardavano lui naturalmente. Cos'era successo dopo quella sera? Oggi? Dove era stata? Si erano rivisti, parlati e così via? Non ne feci nessuna. Non fu facile, ma non feci nessuna domanda. Per tutto il tempo che rimanemmo seduti e dopo, quando attraversammo la città fino al nostro palazzo. Fino a quando fu il momento di salutarci davanti alla porta di casa sua. Allora fu lei a parlare. Cosa pensi di me dopo le cose che ti ho detto? Quello che pensavo prima è solo un po' più complicato. Vuoi entrare? Pensai qualche secondo prima di rispondere. No, stasera no. Ma non fraintendere solo che... Mi interruppe parlando in fretta, a disagio. Non fraintendo, hai ragione. Non dovevo nemmeno dirtelo. Hai detto che lunedì il processo finisce? È probabile. Dipende da un ultimo accertamento ordinato dalla Corte. Se alcuni documenti arrivano in tempo, allora dovremmo chiudere lunedì. Ma tu parlerai la mattina? No, non credo. Quasi sicuramente il pomeriggio. Allora quasi sicuramente riesco a venire. Voglio esserci quando parli. Anch'io vorrei che ci fossi. Allora... Buonanotte e grazie. Buonanotte. Ero già per le scale. Guido? Sì? Sono andata da lui dopo. Gli ho detto che aveva ragione sull'ipocrisia, la mia e tutto il resto. Fece una breve pausa e parlò ancora. C'era una fragilità sconosciuta nella sua voce. Ho fatto bene. Socchiusi gli occhi e respirai profondamente, sentendo un nodo che si scioglieva alla bocca dello stomaco. Le dissi che sì. Aveva fatto bene. Quindici. I tabulati arrivarono puntualmente, il quinto giorno dall'udienza in cui ne era stata ordinata l'acquisizione. Me lo disse il marisciallo dei carabinieri che aveva eseguito il provvedimento della corte. Era un mio amico e gli avevo telefonato per sapere se quelle carte erano arrivate. Disse che erano arrivate e allora andai in tribunale per esaminarle. Era sabato, primo di luglio. Il palazzo di giustizia era deserto e l'atmosfera vagamente surreale. La porta della cancelleria della corte d'assise era chiusa. Aprii e dentro non c'era nessuno, ma almeno l'aria condizionata funzionava. Così entrai, richiusi la porta e aspettai che qualcuno ritornasse e mi facesse consultare i tabulati. Dopo un quarto d'ora finalmente entrò un impiegato piccolo di statura sulla sessantina, che non conoscevo. Mi guardò con aria assente e mi chiese se avessi bisogno di qualcosa. Avevo bisogno di qualcosa e glielo dissi. Lui sembrò riflettere qualche istante, poi fece sì col capo, in modo pensoso. La ricerca delle carte fu un'operazione laboriosa e alquanto snervante, ma in un modo o nell'altro alla fine Lomino riuscì a trovarle. Dai tabulati veniva fuori che Abdu aveva sicuramente detto la verità sul viaggio a Napoli. La prima telefonata era delle 9.18. Era una chiamata in uscita dal telefono di Abdu, era diretta a un numero di Napoli ed era durata 2 minuti e 14 secondi. All'ora di quella telefonata Abdu era già a Napoli o nelle immediate vicinanze. Seguivano altre quattro telefonate, a numeri di Napoli e a telefoni cellulari, in cui la localizzazione era sempre Napoli. L'ultima era delle 12.46. Poi non succedeva niente per oltre quattro ore. Alle 16.52 Abdu riceveva una telefonata da un telefono cellulare. In quel momento la localizzazione era su Bari città. La successiva telefonata era delle 21.10. Era una chiamata in uscita dal telefono di Abdu a un altro cellulare. La localizzazione era ancora a Bari. Poi più niente. Mi fermai a riflettere sul risultato di quell'accertamento. Certamente non era risolutivo e non chiudeva il processo. C'era un tempo vuoto di oltre quattro ore e proprio al centro di quelle quattro ore si era verificata la scomparsa del bambino. Quello che risultava dai tabulati non consentiva di escludere che Abdu, tornato da Napoli, avesse proseguito per Monopoli, fosse arrivato a capitolo, avesse preso il bambino, avesse fatto chissà cosa d'altro, eccetera, eccetera. Mi alzai per andare via e mi accorsi che l'omino era seduto dall'altro lato della cancelleria, con il mento appoggiato alle mani, i gomiti sulla scrivania e lo sguardo perduto da qualche parte. Gli augurai buona giornata. Lui girò la testa, mi guardò come se avessi detto qualcosa di strano e poi mentre si voltava di nuovo fece una specie di cenno col capo. Impossibile capire se aveva risposto al saluto o se era rimasto altrove e dialogava con qualche fantasma. Fuori l'aria era rovente. Era mezzogiorno di sabato primo luglio e mi accingevo a chiudermi in studio per preparare la discussione del processo. Mi aspettava un lungo fine settimana.